La provincia d'Imperia, tramite un'asta pubblica, ha giudicato la propria quota del 60% del capitale sociale del centro di formazione professionale pastore alla ditta fare logico d'Imperia. L'aggiudicazione è avvenuta ad un prezzo di 73.200 euro con un rialzo di 1.600 euro rispetto al prezzo a base d'asta. Si tratta di un ulteriore alleggerimento delle partecipazioni societarie in capo alla provincia, ha commentato il presidente Fabio Natta. Dopo le vendite dell'autostrada dei Fiori, dell'autostrada Albenga-Garesio-Ceva e dell'aeroporto di Villanova d'Albenga, è stato compiuto un altro passo importante verso la razionalizzazione del patrimonio societario dell'ente, che richiede l'uscita dalle società che svolgono attività non più attinenti alle funzioni rimaste alla provincia. L'introito della vendita, in un momento di gravi difficoltà finanziarie come quello attuale, servirà ora per reperire nuove risorse da destinare all'esercizio delle competenze dell'ente provincia, come la manutenzione delle strade e l'edilizia scolastica.